Benvenuti e bentornati signori e signori, come vi avete fatto giustamente notare qualche video fa mi sono definito prima un coglione poi un pazzo per fare street photography e adesso cosa manca? Adesso manca che effettivamente dovrei mettermi un po' a dieta e avete capito benissimo se vuoi fare street photography devi metterti a dieta anche tu perciò seguitemi fino alla fine di questo video perché proverò a spiegarmi meglio dopo la sigla morirò prima o poi se noi ci attanessimo soltanto alle regole esistenziali basterebbe procurarci del cibo e trombare un po' per riprodurci e sono tutte quante sfide che per noi umani non sono più sfide perché ormai ci sono i supermercati e c'è Tinder ma non per gli animali perché gli animali ancora si svegliano tutte quante le mattine con lo scopo di sopravvivere infatti se sei una gazzella ti svegli tutte le mattine e devi correre più veloce del leone e altre minchiate del genere per intenderci e per capire insomma il significato mentre invece noi siamo intrappolati in compiti quotidiani molto più banali come rispondere a una mail di lavoro e magari ripostare la nostra bella fotografia su Instagram l'istinto di sopravvivenza spinge gli animali a esplorare quello che c'è attorno per aumentare le loro probabilità di vita noi invece non siamo più abituati ad esplorare quello che non conosciamo diciamo anche che non siamo molto propensi a spostarci dal divano sempre che il cellulare prenda segnale che è un segnale di connessione sociale e che ci rassicura ovviamente noi viviamo bombardati da tecniche su come organizzarci meglio su come creare le routine per avere giornate di successo siamo abituati a cercare le cinque regole per diventare il fotografo migliore i segreti per una composizione perfetta le regole sul colore i trucchi per costruire una foto wow ma tutto questo però che senso ha? cioè abbiamo veramente bisogno di questa ricerca costante della tranquillità secondo me l'unica cosa di cui noi abbiamo bisogno è invece metterci a dieta dalle mille convinzioni che invece che ci stanno imprigionando ogni cosa oggi è a portata di mano se abbiamo un dubbio apriamo e cerchiamo su google se non sappiamo fare una cosa apriamo youtube e cerchiamo un tutorial per diventare degli street photographers migliori facciamo i workshop ovviamente soltanto da quelle persone che si definiscono le uniche capaci di poterli fare perché oggi tutto quanto è già scritto come mangiare, lavorare, vivere e fotografare seguendo l'economia cognitiva scegliamo sempre la strada più facile ma questo però ci riempie di superficialità perché ci impedisce di mantenere viva la nostra curiosità e la ricerca ci impedisce di mantenere vivo l'istinto viviamo avventure attraverso gli altri, attraverso i social media, i film, i nostri eroi i nostri fotografi preferiti però abbiamo smesso di rischiare in prima persona e così ripetiamo sempre gli stessi schemi evitando qualsiasi tipo di cambiamento noi facciamo sempre gli stessi errori che poi diciamocelo sono sempre gli errori di qualcun altro il mondo ci insegna a stare buoni fin da quando siamo bambini a specializzarci invece di esplorare e infatti ci dicono sempre non correre, non rischiare, non osare perché potresti farti male oppure, oppure potresti diventare più bravo di me pensaci Einstein diceva se non sai fare una cosa non disturbare chi invece ci sta provando perché nella curiosità e nella voglia di scoprire qualcosa di nuovo che risiede la nostra crescita e il nostro vero cambiamento è lì che è il progresso la zona di comfort che è quella condizione mentale in cui agiamo sempre senza ansia può essere una trappola ci fa sentire al sicuro ovviamente però ci impedisce proprio di crescere l'unico modo per crescere invece è uscire dalla nostra zona di comfort la vera vita inizia fuori da questa vaschetta jacuzzi in cui siamo abituati ormai a nuotare da una vita intera ci sono le bollicine tutto quanto piacevole ovviamente però ecco le nuove esperienze che creiamo delle nuove connessioni potenziando il nostro occhio e anche il nostro cervello se facciamo invece sempre le stesse cose rinforziamo soltanto gli stessi collegamenti alcuni di questi non ci fanno sempre bene il coraggio non è l'assenza di paura piuttosto è la capacità di procedere nonostante la paura e se volete che vi dica la verità io ho paura tutte le volte che esco a fare fotografie perché il disagio provocato da una sonora figura di merda è il momento in cui cresciamo di più perché rompiamo i nostri limiti e superiamo tutte quante le nostre costruzioni quello che oggi ci mette a disagio chissà magari domani potrebbe per esempio farci stare più tranquilli la vita inizia proprio dove finisce la zona di comfort e quindi il mio consiglio è quello di camminare sempre tra le tue paure e spingerti a fare sempre quelle cose che ti fanno sudare piuttosto il palmo delle mani sii curioso prova sempre cose nuove la street photography è tutto questo l'unico modo per trovare il tuo sguardo fotografico il tuo stile personale non è seguire questo canale o qualunque altro piuttosto è abbracciare la curiosità e l'esplorazione e perciò non lasciarti imprigionare dalle routine e delle aspettative degli altri e soprattutto però non farti mai imprigionare da chi ti dice come si fa qualcosa perché chi non ti vuole vedere andare oltre ogni scatto è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo sia sul mondo ma anche su te stesso la tua visione e la tua espressione sono uniche punto non c'è nient'altro da aggiungere se non che ci vuole coraggio ci vuole palle dubbio di sé paura incertezza inadeguatezza non mi sento abbastanza bravo non sono abbastanza bravo l'emarginazione la depressione la disperazione il cinismo siamo onesti siamo tutti quanti afflitti da una qualche misura o combinazione di questi tratti abbiamo tutti quanti i nostri demoni da combattere e un giorno sicuramente riuscire anche a sconfiggerli e le arti creative però per la loro insistenza a guardarci dentro ci collocano sempre nel mirino delle nostre paure dei nostri dubbi e di tutte quante le nostre insicurezze la nostra unica speranza per riuscire ad avere successo nella fotografia e nell'arte e imparare a fidarci soltanto di quello che siamo compresi tutti quanti i nostri difetti non possiamo distruggere e abbattere i nostri demoni tutti quanti in un giorno solo però possiamo accettarli come una parte della nostra identità che è quella che poi ci rende differenti tutti quanti dagli altri tutto quello che sei è proprio materiale per il tuo lavoro perciò non nasconderti mai dai tuoi doni dalle tue mancanze e da tutto quanto il tuo passato piuttosto rendilo parte del tuo approccio creativo non avere mai paura di essere quello che sei fidati di chi sei non c'è niente di nuovo sotto il sole da fotografare dicono tutti quelli che ci vogliono tenere a terra e lo dicono proprio tutti quelli che non vi vogliono vedere fare un salto ma la tua espressione la tua visione sono uniche e possono venire soltanto da te non c'è nessun altro al mondo che ha le tue intuizioni i tuoi difetti e i tuoi doni io personalmente trovo sempre delle fotografie sorprendenti nei profili di tutti quanti i fotografi che guardo e quando poi parlo con loro spesso alcuni di questi neppure lo sanno perché le nostre prime fotografie sono tutte quante incredibili perché guardavamo con occhi diversi occhi pieni di meraviglia sempre pronti a scoprire qualcosa di nuovo non eravamo condizionati poi però poi però succede qualcosa perché perdiamo un po' quella scintilla perché ci abituiamo alla routine e quindi smettiamo di esplorare ma la sapete la verità tutto questo è un peccato enorme l'autenticità in qualsiasi contesto in qualsiasi contenuto parla proprio della propria verità personale delle proprie osservazioni e chi guarda non può non accorgersene perciò afferra la tua visione perché è tua ed è soltanto tua la perfezione è nemica del bene dell'eccellenza diceva Voltaire e quindi il mio consiglio è ecco non essere non cercare di essere bravo questo compito lasciamolo piuttosto a chi straparla noi cerchiamo sempre solo di essere autentici ogni persona ha un tocco di genio e non lo troverai mai cercando di compiacere qualcun altro che sia poi un insegnante un genitore un collega o la giuria di un contest fidati del tuo processo creativo assumiti la responsabilità di tutto quello che sei e anche di quello che non sei perché le tue fotografie cambiano il senso delle cose per chi le guarda a volte un po' ma a volte anche molto perciò impara a distinguere le tue percezioni da quelle immagini che imitano invece i maestri oppure che sono semplicemente la digestione svolta dalla mente dei cliché fotografici popolari rivendica sempre e soltanto il tuo modo di guardare scopri di quello che sei fatto di cosa sei fatto scopri come sei fatto e non avere paura di chi sei sii te stesso la street photography non è soltanto la capacità di osservare ma è anche un atto di introspezione un viaggio interiore e un atto di fiducia in se stessi e la fiducia in se stessi è fondamentale per ogni artista e si costruisce con il tempo attraverso la pratica le minchiate e la riflessione sii tu stesso Buddha perché attraverso il coraggio di osare che puoi diventare anche tu un essere completo e unico ma il Davils era un musicista eccezionale però era uno di quei musicisti che sbagliavano più note in assoluto suonava regolarmente a ogni concerto una nota sbagliata e a chi glielo faceva notare lui rispondeva sempre che non è la nota che suoni ad essere sbagliata e piuttosto una nota che suoni prima o dopo che rende giusto o sbagliata la nota precedente perciò mettiti a dieta anche tu sii curioso e osa ciao e alla prossima settimana a Grazie a tutti. Grazie a tutti.